amici telespettatori di legnano web tv di calcio.com un buonasera da axel paderni come vedete siamo qua nello splendido centro sportivo di gambarogno e siamo qua per la telecronaca del campionato nazionale di prima lega femminile tra la s gambarogno e l'fc clotten una partita assolutamente divertentissima che abbiamo l'onore qui di commentare andiamo alla lettura delle formazioni delle squadre abbiamo vediamo alla destra dei nostri teleschermi in maglia blu il gambarogno abbiamo col numero 1 colombo lucrezia numero 4 cala lesina elisa numero 5 buletti stefania numero 6 lucchini clara numero 9 cresteva elisa betta numero 10 culumi vanessa numero 19 grossi scilla numero 20 ostini ariana numero 21 londino giada numero 23 bordogna belinda numero 88 dal dos sabin in panchina col numero 14 golai emi numero 16 pestoni giorgia numero 24 alves meschita vanessa numero 99 bruno aurora il tecnico assolutamente conosciutissimo anche nel in altri ambiti come il calcio 5 indoor il grandissimo franzioli giorgio al quale faccio un cordialissimo saluto mentre alla sinistra dei nostri teleschermi in maglia in maglia verde la scuola la formazione dell'fc cloten una formazione assolutamente che in passato ha disputato anche campionati di lega nazionale a una formazione assolutamente storica del calcio femminile svizzero abbiamo col numero 4 voce valeria numero 8 de mariach melissa numero 10 creps jessica numero 6 amato angela numero 13 ber sonia numero 14 sutter nina numero 16 boderman sabrina numero 17 baker nadine numero 5 chapuz siria numero 25 busciati lutrim numero 1 moscon seraina mentre in panchina abbiamo numero 7 jesserman sarà numero 19 spitzer sabrina e numero 15 ora urcai fabienne vediamo che tutto pronto e parte con il possesso il cloten è partita questa bellissima gara assolutamente divertissima divertentissima vediamo il possesso palla da parte del cloten ricordiamo che il gambarogno attualmente è il primo in classifica in questo campionato quindi speriamo scusate perdonate mi viene segnato secondo quindi speriamo assolutamente un grande risultato perché c'è bisogno assolutamente di anche tanto calcio femminile qui in canton ticino bene vediamo ancora il che viene adesso battuta una rimessa laterale da parte del cloten con la numero 10 creps ancora vediamo un affondo bloccata dalla difesa del gambarogno con la numero 4 canalesina elisa ancora vediamo una rimessa che però viene riguadagnata da parte del cloten ancora un rimpallo e vediamo che il direttore di gara assegna una rimessa laterale al gambarogno ancora vediamo un'altra rimessa laterale palla intercettata da parte del cloten ancora invece una vediamo una verticalizzazione del gambarogno ancora una rispinta diamo un palo e rimpallo ancora per la numero 10 curumi vanessa ancora possesso palla da parte del gambarogno vediamo che recupera ancora il cloten vediamo una palla spazzata un diamo un passaggio in in traversone ancora un affondo da parte del cloten ancora si blocca e vedremo adesso che si riprenderà con una rimessa dal fondo andiamo adesso che si riprende il possesso palla con l'estremo difensore colombo lucrezia ancora vediamo il rinvio da parte dell'estremo difensore del gambarogno ancora una palla intercettata dal cloten con la numero 25 busciati nutrim e vediamo adesso che verrava tutta una punizione al limite dell'area intanto è venuta a farmi compagnia per questa telecronaca una delle giocatrici del gambarogno buonasera piacere caldellari evelina molto piacere intanto assolutamente come dicevo a inizio partita una gara con un avversario che ha un grande passato nel calcio svizzero femminile il cloten che ha anche militato tanti anni fa in lega nazionale a beh come avete approcciato questa gara beh ci siamo comunque allenate bene abbiamo cercato di allenare i nostri punti di forza e su quello che puntiamo noi l'avversario può farci paura finché vuole ma basta che giochiamo come squadra e sappiamo farlo basta che giocate come squadra e poi soprattutto avete il la fortuna e il vantaggio è intanto ancora un colpo di testa da parte del cloten che però non impesserisce l'estremo difensore del gambarogno e poi dicevo giocate in casa sul campo in sintetico dove vi allenate chiaramente questo è un punto a favore sì bene adesso siamo abbiamo ricominciato a giocare qua sul sintetico dove vengono fuori le nostre qualità che è più la tecnica piuttosto che la corsa e quant'altro ci stiamo allenando qua e siamo sul nostro campo bene grazie ancora chiaramente spero che starai qua con me a farmi un po di compagnia ancora vediamo il possesso del gambarogno vediamo che viene commesso un intervento falloso che viene subito dalla numero 88 dal dos sabin vediamo che il direttore di gara segna una posizione siamo poco siamo appena quattro metri avanti dalla meta campo però punto ancora troppo troppo lontano per impensierire la difesa del clote ancora vediamo un cross in area che viene respinto dalla difesa del cloten ancora palla spazzata da parte della numero 13 berra sonia vediamo adesso un'altra rimessa laterale per il chiambarogno intanto colgo anche l'occasione per ringraziare la regia ferran masvidal che assolutamente ci fa sempre vedere delle grandissime immagini e veramente gli faccio i complimenti perché insomma è una grandissima spalla e non saprei come fare senza di lui ancora vediamo un'altra rimessa laterale battuta dal cloten con de mariach melissa ancora di vediamo il barice il gambarogno che alza il balicentro ancora un possesso vediamo un grande recupero da parte della numero 9 cresteva elisa ancora diamo la fondo da parte del gambarogno e la ripresa con del cloten diamo la formazione in maglia verde che riesce a uscire bene dal pressing un contropiede in chiaramente in lunga linea che però non viene assolutamente concretizzato beh insomma direi che tutto sommato questo inizio non è affatto male è un buon inizio promettente stiamo cercando di uscire noi e adesso vediamo ancora vabbè chiaramente magari figurati non sei abituato a stare come come me che ci sto praticamente tutto il giorno davanti e dietro a una telecamera però veramente io ti ringrazio per la tua simpatia e per la gente la soprattutto per la tua gentilezza perché insomma ci vuoi è una cosa che fa sempre piacere ancora vediamo il possesso del gambarogno cattura il pallone la numero 9 cresteva elisa vediamo il recupero da parte del cloten che però non riesce a trattenere il pallone in campo ancora vediamo l'aggancio ancora ribattuta vediamo sul pallone la numero 23 bordogna belinda pala rispinta da parte del della difesa del cloten recupera il gambarogno con la numero 88 dal dos sabine vediamo che scarica per la numero 21 londina già da che spazia vediamo che non riesce ad agganciare la numero 10 curumi vanessa ancora diamo un po di traffico riesce nell'apertura però il direttore di gara vediamo che fischia giustamente un un fuorigioco beh direi assolutamente un ottima intenzione e soprattutto un già una buona occasione per la vostra squadra si stiamo cercando di costruire senza troppi lanci ancora vediamo una grande spazzata da parte della difesa del gambarogno con la numero 4 calalesina elisa ancora vediamo che recupera la difesa del gambarogno ancora non riesce a liberarsi del pallone e vedremo adesso ancora un'altra rimessa laterale da parte del cloten che ahimè è un po avanzato abbiamo adesso l'uno contro uno va via palla al centro e diamo il tiro che non viene concretizzato ancora pressato il gambarogno ancora un'altra respinta da parte della numero 14 del cloten sutter nina diamo il contropiede la manovra offensiva da parte del gambarogno ancora traversone e vediamo che avanza ancora una un passaggio verticale che però non viene assolutamente catturato ancora una bellissima chiusura vediamo che però alla meglio il cloten con la numero 13 ber sonia assolutamente un'azione molto pericolosa per il cloten assolutamente una giocatrice che già in un paio di affondi insomma ha dimostrato che deve essere la numero 13 del cloten ha dimostrato che in un paio di affondi insomma è una giocatrice molto pericolosa si dobbiamo cercare di contenerle noi questo che dobbiamo fare giocare strette e corte e compatte grazie assolutamente ancora per la tua per la tua gentilezza per insomma per farmi anche compagnia durante questa telecronica che insomma diciamo che a volte da solo non è sempre così facile però io cerco assolutamente di fare del mio meglio ancora vediamo possesso pala da parte del cloten vediamo pallone a centro campo ancora un rimpallo e il direttore di gara decide che il possesso ancora del cloten quando sono passati 11 minuti dall'inizio di questa gara tra gambaronio e cloten il putteggio è ancora di 0 a 0 però assolutamente tanto divertimento tanto possesso palla e tanto calcio qui al centro sportivo di magadino intanto vediamo ancora un affondo da parte del cloten ancora palla pericolosa grandissima grandissima la parata da parte dell'estremo difensore colombo lucrezia veramente fantastica questa uscita assolutamente intanto vediamo il coach del gambaronio franzioli che assolutamente sta chiamando all'attenzione le sue ragazze intanto vediamo che adesso sarà un calcio d'angolo per il cloten il primo della della gara colpo di testa pericoloso da parte della giocatrice numero 5 chapuis siria ancora possesso palla cross in area da parte del cloten con la numero 18 che ahimè non riesco a trovare in distinta vabbè chiaramente sono le sono le sorprese delle minors ancora una palla con una conclusione da parte del cloten veramente pericolosa che quasi quasi fa la barba al palo e vediamo che si riprenderà con un rinvio da parte di dell'estremo difensore colombo lucrezia ancora vediamo che l'estremo difensore decide di rinviare con un rinvio medio che neanche a metà del centrocampo demi demi demiac melissa ancora una palla spazzata vediamo la fondo da parte del gambaronio ancora con la numero 10 curumi vanessa vediamo veramente la grande formazione da parte di franzioli è incredibile una ribattuta da parte della numero 19 grossi scilla veramente fantastica questa conclusione veramente grande voglia da parte del gambaronio di fare bene di portare a casa i tre punti veramente grande voglia di vittoria per la formazione di casa le nostre ragazze ticinesi ancora vediamo le il rinvio adesso da parte dell'estremo difensore monscon seriana del cloten diamo che il cloten che decide di ripartire basso palla spazzata dalla difesa del cloten con la numero 5 chapuis siria ancora vediamo il possesso palla da parte del cloten passaggio verticale filtrante per la numero 13 berra serie sonia vediamo la palla recuperata dal capitano del del gambaronio ancora vediamo un grande contropiede e ahimè giocatrice che viene messa a terra però vediamo che l'arbitro ravvisa un infortunio al centrocampo speriamo assolutamente niente di grave speriamo assolutamente soltanto in una botta vabbè sono cose che ahimè nel calcio possono capitare 14 minuti che sono passati qui al centro sportivo di magadino punteggio ancora di 0 a 0 però direi che assolutamente state facendo veramente un buon gioco e dai la rete è soltanto questione di pochi minuti ma non tiriamo c'è la così adesso continuiamo a giocare come stiamo facendo e vediamo vabbè giustamente sei un po più sei un po più tra virgolette prudente e vabbè giustamente a volte sono cose che ci stanno però intanto vediamo vedremo un calcio d'angolo assolutamente in vediamo il primo calcio d'angolo della gara da parte del gambarogno vediamo un po tutta la squadra che ha alzato il baricentro vediamo che scocca il tiro cross lungo colpo di testa diamo ancora palla per il gambarogno che ahimè non non viene controllata da parte della numero 21 londino giada e vediamo adesso che si riprenderà con una rimessa laterale da parte del cloten vediamo che però la tutta la formazione di coach franzioli ha alzato tutto il baricentro vediamo un ottimo pressing contro le verdi del cloten ricordiamo formazione del canton zurigo per questo campionato nazionale di prima lega ancora il pressing vediamo sotto la numero 6 lucchini clara veramente un'ottima pressione per la giocatrice in maglia numero 6 del gambarogno ancora vedremo una rimessa laterale per il cloten assolutamente grande 1 contro 1 da parte di lucchini ancora diamo il direttore di gara che richiama la numero 8 demenriac melisa ancora pressione da parte del gambarogno e grande difesa da parte della numero 19 grossi scilla ricordiamo il capitano del gambarogno ancora si vediamo che si riprenderà con una rimessa laterale per il cloten ancora palla alla numero 25 busciati leutrim ancora vediamo traversone cambiolato ancora a fondo da parte del cloten grande contopriede è veramente a un'autostrada letteralmente libera ancora vediamo il raddoppio della numero 4 e della numero cala lesina e della numero 9 cresteva veramente grande difesa da parte del gambarogno però questo cloten a dimostrato che insomma se lasciato un po libero è una formazione molto pericolosa si sono pericolosi lo sapevamo che dobbiamo fare quello che riesciamo e giocare a mille per cento io devo essere sincero coach franzioli io lo conosco abbastanza so che è un coach molto severo e soprattutto che è sempre molto attento e diciamo che lui prepara le partite nei minimi dettagli severo ma giusto ci fa lavorare nella maniera più corretta e nel migliore dei modi niente da dire sul coach veramente un grande saluto e poi magari lo sentiremo al termine della partita per le interviste post gara intanto vediamo che si riprende con colombo lucrezia ancora vediamo una partenza dal basso dal parte del gambarogno e vediamo che il passaggio in lungolinea però purtroppo termina fuori dal dal rettangolo di gioco ancora una palla controllata da parte di voc valeria ancora vediamo la fondo da parte del cloten vediamo che va via entra in area ancora palla pericolosissima palla al centro ancora è grandissimo l'intervento da parte dell'estremo difensore colombo lucrezia veramente azione pericolosissima per il cloten ancora vediamo rispinta della difesa rimpallo con la numero 23 bordogna belinda ancora palla respinta da parte della numero 25 busciati leutrim ancora vediamo il gambarogno il cloten in attacco ancora palla pericolosissima per la numero 13 ber sonia ancora vediamo palla al centro per il cloten veramente grandissimo salvataggio da parte della numero 5 buletti stefania mamma mia che palla pericolosa del del cloten assolutamente un'azione veramente molto pericolosa vediamo adesso ancora il secondo calcio d'angolo per il cloten vediamo che se ne incarica la numero 3 scusate la numero 8 vabbè qualche errore ahimè lo faccio anch'io de mariach melisa ancora vediamo che scocca lancio lungo e per poco non ci arriva la numero 5 chapuis siria veramente una conclusione pericolosa però abbiamo visto che non è riuscita ad agganciare bene il pallone veramente una un taglio da parte della del difensore centrale del cloten assolutamente molto pericoloso e vediamo che si riparte ancora con un rinvio da parte dell'estremo difensore del del gambarogno ancora grande pressing da parte del cloten ancora una conclusione per il cloten con la numero 25 busciati leutrim però vediamo che la conclusione è assolutamente troppo lenta e vedremo che si riparte ancora con un rinvio da parte del gambarogno con colombo lucrezia beh io direi che insomma state un po soffrendo il pressing del cloten in questo momento ci stiamo mettendo in difficoltà da sole secondo te perché non parliamo facciamo un po fatica a parlare effettivamente questo hai detto hai detto proprio la cosa giusta infatti vedo che le ragazze del cloten effettivamente parlano molto tra di loro si chiamano non so sembra su questo effettivamente magari però ci stiamo lavorando beh però comunque adesso a parte tutto visto che siete una grande squadra siete molto affiatate questo è chiaramente indipendentemente dal che sia calcio maschile o femminile in uno sport di squadra è sempre una cosa fondamentale e questa è una cosa che mi ha colpito molto arrivando qui al centro sportivo di magazzino sì siamo veramente unite come squadra il gruppo non manca dobbiamo solo dimostrarla anche sul campo assolutamente assolutamente veramente ce lo auguriamo ci auguriamo in tre nei nei tre punti da parte del gambarogno assolutamente importanti per la classifica appunto vediamo un'altra respinta da parte della numero cinque buletti stefania ancora un possesso da parte del cloten per pallone alla numero diamo che viene respinto dalla numero quattro voc valeria ancora un altro a fondo e per poco non arriva un ottimo colpo di tacco da parte della giocatrice del cloten il capitano baker nadine ancora vediamo il possesso e ahimè viene commesso un intervento falloso ai limiti dell'area per il gambarogno da parte della numero quattro cala lesina elisa vediamo che il cronometro e sono passati 22 minuti del primo tempo gara e ancora a reti inviolate qui al centro sportivo di magadino ancora vediamo una punizione ai limiti dell'area da parte del cloten assolutamente una posizione una posizione molto pericolosa vediamo che scocca il tiro ahia veramente arriva alla rete del cloten ahimè come avevo detto una con la numero 13 ber sonia veramente una un errore clamoroso da parte della difesa del appunto del gambarogno come mai purtroppo abbiamo preso questo gol adesso cerchiamo solo di reagire basta ma se come mai questa cioè questo è un errore difensivo molto grosso questo capita no si può incolpare nessuno purtroppo va bene così è il gruppo e il gruppo ha fatto l'errore va bene no vabbè giustamente io mi auguro che riguardando anche questa partita magari chiaramente non sono sicuro che non ci si annoierà ad ascoltare un po il commento però indubbiamente servirà un po anche per migliorare quello che sono chiaramente gli errori per le prossime gare però va bene parte tutto adesso sono convinto che ci sarà una grande reazione da parte del gambarogno e vedremo assolutamente io sono sicuro che la gara non è assolutamente finita però veramente però fino ad ora grande complimento anche al cloten che sta facendo assolutamente un ottimo possesso palla e assolutamente si è riuscito ad andare in vantaggio ancora vediamo un affondo con una verticalizzazione e vediamo però un'ottima chiusura da parte di cala lesina e elisa ancora vediamo che si riprende con un una rimessa dal fondo da parte dell'estremo difensore colombo lucrezia vediamo che scocca il tiro vediamo un rinvio medio ma secondo me adesso questo io lo dico ma vedo che effettivamente un po con una partenza dal basso state un po soffrendo si facciamo fatica a uscire spalle alla porta facciamo davvero fatica a uscire dobbiamo solo liberarci e più possibile verticalizzare intanto vediamo il pallone che viene catturato dal nostro ferran c'è un altro infortunio a centro campo da parte del del cloten speriamo assolutamente niente di grave veramente perché a volte quando insomma diciamo che su alcune cose le donne sono un filo più delicate degli uomini però insomma c'è da sempre da tenere molta attenzione e giustamente c'è speriamo assolutamente niente di grave vediamo che zoppica la giocatrice del cloten però assolutamente niente di niente di grave va bene intanto veramente faccio tanto facciamo anche i complimenti al nostro direttore di gara che fino ad ora insomma sta facendo comunque una buona gara vero? sì è arrivato leggermente in ritardo ma questo l'ha comunque scoraggiato a fare un buon lavoro fino adesso Urca questo non lo sapevo quindi è arrivato in ritardo eh quanto pare sì abbiamo visto entrare un po' in ritardo ai 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 quindi diciamo che adesso devo essere appunto infatti proprio perché è arrivato in ritardo questo lo dico apertamente infatti io sulle liste che mi sono state consegnate io non ho il nome dell'arbitro quindi all'intervallo andrò devo andare a chiedere anche il nome infatti io mi chiedevo perché non ci fosse adesso me l'hai spiegato molto bene me l'hai spiegato molto bene c'è da dire che c'era anche un po' di traffico a Bellinzona l'ho incontrato anch'io però come sempre chiaramente non è non è una novità va bene dopo questa bellissima questo bellissimo di viagare torniamo al commento della partita ricordiamo 1 a 0 qui al centro sportivo di Magadino 1 a 0 a favore del Clotten quando sono passati 27 minuti di questo primo tempo intanto vediamo palla a centro campo che viene riguadagnato dal Gambarogno con la numero 9 cresteva Elisabetta ancora possesso palla riguadagnato ancora dal Clotten bellissimo 1-2 tra il portiere Moscon Serai ancora palla a centro campo contropiede da parte del Clotten bellissimo il passaggio filtrante della numero 13 del Clotten Ber Soria veramente ricordiamo autrice del gol e vediamo intanto una conclusione da parte della numero 17 Bacher Nadin ricordiamo il capitano del Clotten però vediamo che assolutamente l'estremo difensore Colombo Lucrezia ci arriva in maniera molto facile e vedremo adesso un altro calcio d'angolo da parte del Clotten vediamo adesso che posiziona il pallone la numero dovrebbe essere la numero 3 se non ho visto ma no 3 o 8 non ho sincera da così lontano non l'ho non l'ho vista perdonatemi mi sembra De Mariacca Melisa però non ne sono così sicuro adesso vedremo che quando si gira se ho azzeccato perché ammetto che è un po a volte un po difficile sì esatto no alla fine non sono proprio così orbo come sembra meglio così no vabbè scherzi a parte tanto vediamo già un vediamo un attimo il gioco interrotto per sembra un cambio sì non so che cosa sta succedendo a sì hanno cambiato anche loro hanno cambiato vediamo il Clotten che decide di fare già un cambio vediamo che è entrata la numero 15 Urcai Fabienne ancora vediamo il Clotten in possesso palla vediamo l'affondo sulla fascia sinistra e vediamo che viene commesso un fallo in attacco grande difesa da parte del Gambarogno veramente insomma un uno contro uno assolutamente assolutamente ben riuscito ancora vediamo la punizione vediamo che viene battuta in in maniera verticale con un tiro verticale a mezza altezza ancora palla controllata dalla numero 10 Kurumi Vanessa e vediamo che il direttore di gara assegna una rimessa laterale ancora palla spazzata dal numero 9 Cristeva Elisabetta ancora vediamo una una rimessa laterale da parte di Calalesina Elisa ancora un colpo di testa da parte di Bulletti Stefania ancora il vediamo il possesso palla da parte del blu del Gambarogno ancora diamo cambialato uno contro uno ben fatto da parte della numero 9 Cristeva Elisabetta ancora palla che non viene controllata bene e recuperata da parte dell'estremo difensore del Clotten però Gambarogno che assolutamente ha grande voglia di rivincita si stiamo cercando di reagire stiamo cercando di portare la squadra in attacco e di riuscire finalmente a recuperare questo gol grazie assolutamente per la tua per il tuo consiglio e per giustamente il consiglio alle ragazze e intanto vediamo un'altra rimessa laterale che viene assegnata al Clotten diamo un passaggio per la nuova per no non per la nuova entrata perdonate mi sembrava da così lontano non è non l'ho riconosciuta ancora vediamo un'altra rimessa laterale per il Clotten palla spazzata un assist un cross alt veramente altissimo a campanile e vediamo ancora il pallone controllato dal Clotten ancora l'uno due ancora ancora palla pericolosissima veramente spazzata dalla difesa del Gambarogno assolutamente altra azione pericolosissima per il Clotten eh sì ci riescono a schiacciarci nella nostra area difensiva cerchiamo di uscire assolutamente è un grande pressing da parte della formazione del Clotten ancora palla vediamo eh vediamo veramente il l'affondo da parte della numero tredici del Clotten Ber Sonia veramente ricordiamo eh autrice eh di dell'unica rete qui sino ad ora al centro sportivo di Magadino quando sono passati trentadue minuti ancora un'altra palla pericolosa ancora recuperata da eh Ber vediamo la verticalizzazione da parte della numero eh sedici del eh del Clotten ancora passaggio filtrante pericolosissimo vediamo il Clotten che letteralmente sta schiacciando il Gambarogno veramente altra azione pericolosa da parte della formazione in maglia verde aia mi sembra un po' un minuto di blackout sì stiamo un po' perdendo la ragione adesso cerchiamo di recuperare subito di sistemarci e di essere compatte assolutamente io non oso immaginare il mitico coach Franzioli eh nello spogliatoio durante l'intervallo se per caso eh non riusciste a pareggiare che cosa non ve ne direbbe eh assolutamente no io sono convinto invece che vi darebbe una grande scossa perché è quello che effettivamente un po' serve alla vostra squadra perché ripeto siete comunque Gambarogno è partito assolutamente bene in questo primo tempo eh un'ottima partenza però anzi all'inizio anche un buon pressing però piano piano il Clotten è venuto fuori e la situazione è cambiata in maniera eh completamente diametralmente opposta ancora vediamo il il pressing il contropiede da parte del eh del Clotten e vediamo un brutto intervento difensivo da parte della numero 88 dal DOS eh Sabin e vedremo adesso un una punizione per il Clotten che verrà battuto dalla numero cinque eh Shapuis Siria andiamo andiamo il direttore di gara che sistema la barriera ancora cross in area rispinta da parte del capitano vediamo adesso il contropiede da parte del Gambarogno no che roraccio ancora cross al centro però ahia appunto sembrava proprio un fuorigioco che assolutamente viene fischiato però altra occasione pericolosa per il Clotten eh sì 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 per fortuna era fuorigioco vorrei dire appunto per fortuna era fuori era fuorigioco perché la numero tredici eh del eh Clotten Ber Sonia effettivamente ha dimostrato di essere un attaccante un comunque molto pericoloso e eh ahimè lo sta assolutamente eh dimostrando con la rete e con tante azioni veramente pericolose ancora vediamo una rimessa a centro campo un rimpalo ancora vediamo la la manovra da parte del Gambarogno non riesce l'intesa con la numero nove cresteva Elisabetta ancora possesso palla dalla parte della formazione in maglia verde vediamo il recupero da parte della difesa del Gambarogno con la numero diciannove grossi Scilla ancora vediamo gioco un po' di traffico a centro campo ancora deve cercare di di eh allargare la manovra il Gambarogno vediamo il bellissimo passaggio filtrante in eh angolo da parte al numero ventiottantotto eh dal dos Sabin che veramente si accentra e riesce a guadagnarsi una punizione ai limiti dell'area veramente che a questo punto dovete assolutamente approfittarne sì abbiamo anche le possibilità di farlo e i mezzi speriamo di riuscire a metterla in gol e vediamo appunto vedo sul pallone una specialista delle punizioni la numero nove cresteva eh Elisabetta io avrei c'è anche il capitano eh grossi Scilla che ha veramente un gran tiro eh però adesso vedremo se deciderà di anzi da come si sta posizionando secondo me eh può tentare o un cross eh per in cross al centro oppure anche calciare direttamente in porta veramente grande conclusione che però eh è fuori però veramente grande intenzione per il Gambarogno sì ci serve questo ci serve un po' di voglia e un gol e aggiungo anche un'altra cosa un po' di coraggio assolutamente sì dobbiamo uscire dalla nostra metà campo veramente grande Gambarogno che sta facendo un grande pressing però assolutamente fino ad ora il Cloten ha controllato molto bene il gioco ancora un'altra eh vediamo un'altra la manovra da parte del Gambarogno respinta da parte della difesa del Cloten ancora vediamo palla alla numero tredici eh Berra Sonia ancora eh palla che viene respinta da parte della difesa del Gambarogno con grossi vediamo posizione regolare ancora Lucita da parte dell'estremo difensore del Cloten Moscon Seraya ancora vediamo palla spazzata da parte delle Verdi vediamo veramente posizione regolare la numero tredici del Cloten Berra Sonia veramente grande la parata ahimè però non la state marcando a dovere la numero tredici eh riescono a infilarci bene veramente bravissima la numero tredici del Cloten Berra Sonia ricordiamo attaccante destro del Cloten classe 1995 assolutamente bravissima grande atletismo per questa ragazza veramente complimenti io sono convinto che eh la potremo vedere magari anche nelle prossime stagioni in qualche serie anche più alta ancora vediamo che si riprende con il possesso del Gambarogno che si riparte con l'estremo difensore quando sono passati trentotto minuti da parte del primo tempo ancora un lancio lungo a centro campo colpo di testa da parte di Lucchini ancora vediamo uno scambio con la numero nove cresteva ancora vediamo una palla che non riesce a trovarla numero eh undici eh del Gambarogno ancora vediamo un altro a fondo da parte del terzino ancora scarico a centro campo per il Gambarogno ancora vediamo che sta veramente avanzando e ahia veramente ma con questo possesso ancora un bellissimo uno due ancora palla in eh in angolo ancora grande respinta da parte della difesa del Gambarogno veramente ancora possesso da parte del Cloten vediamo la vediamo veramente l'affondo ancora del Cloten e la conclusione da parte della numero eh quindici ehm Urcai Fabienne veramente azione pericolosissima da parte del Cloten ma sto vedendo che le state lasciando soprattutto sulla fascia sinistra sto vedendo che ma anche in generale sulle fasce state molto soffrendo sì stanno trovando loro il coraggio che manca noi ancora vediamo una palla recuperata è un tacco veramente fantastico da parte della numero tredici del Cloten veramente una grande tecnica individuale per Berra e Sonia che fino ad ora oltre ad aver realizzato il gol lasciatemelo dire amici telespettatori fino ad ora per me è la migliore assolutamente di questa eh partita in generale non bene vogliano le amiche e gli amici da parte del Gambarogno ma effettivamente la numero tredici del Cloten sta facendo qualcosa di più non so se concordi sì sì ci sta ci sta veramente mettendo in grande difficoltà questo dobbiamo solo cercare di contenerla assolutamente intanto vediamo ancora possesso da parte eh del Cloten un errore dai che forse ci siamo veramente grande contopriede ancora una palla rimpalla ancora possesso per il Gambarogno con la numero diciannove grossi scilla ancora un rimpallo veramente che azione pericolosa un po' sprecata mamma mia amici telespettatori veramente quante emozioni qui al centro sportivo di Magadino per questa gara del campionato nazionale svizzero di prima lega di calcio femminile alla faccia veramente che chi dice che il calcio femminile non è spettacolare devo essere sincero mi sto divertendo molto più ora che non non posso dire eh la partita maschile che ho commentato qualche giorno fa eh a Lugano però sinceramente mi sto veramente divertendo ed emozionando e queste ragazze mi stanno facendo veramente eh dare mi stanno trasmettendo grande passione ancora un altro a fondo sulla fascia da parte del Clonten ancora passaggio filtrante che però non viene catturato dalla numero ehm tredici Berra e Sonia eh ancora possesso da palla da parte del Gambarogno che per poco ci mette il suo zampino anche il direttore di gara vediamo il possesso da parte del Gambarogno ancora pressata veramente grande difesa purtroppo per che eh per il Clonten ancora decide di ripartire dal dall'estremo difensore del Gambarogno Colombo eh Lucrezia ancora palla a centrocampo ancora vediamo un uno due vinto un uno contro uno vinto dalla numero nove eh Cressteva Elisabetta ancora possesso per il Clonten grande passaggio filtrante vediamo la grande conclusione da parte della numero otto Demeric Demerac eh Merisa spero di aver detto giusto il nome e vediamo che tutto riprende dall'estremo difensore eh del Gambarogno veramente vi stanno un po' mettendo sotto perdonami se lo dico no no è così eh stanno davvero mettendo in difficoltà quarantaduesimo del primo tempo qui al centro sportivo di Magadino punteggio di uno a zero a favore a favore del Clonten ancora tre minuti poi secondo me per eh tra il il cambio tra eh la eh chiaramente i due infortuni secondo me almeno un paio di minuti il nostro direttore di gara che ripeto andrò a chiedere eh durante l'intervallo il come si chiama perché insomma non è bello non nominarlo perché giustamente eh sono onesto fatta chiaramente da solo in questa categoria senza neanche la possibilità la possibilità di avere due assistenti eh di gara chiaramente eh non è facilissimo ma soprattutto non è sempre facilissimo vedere tutti più che altro i fuori i fuori gioco non è sempre facilissimo però sta facendo un comunque un compito eh un buonissimo compito vero? Sì si sta comportando bene non è protagonista no 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 assolutamente dai eh non è assolutamente no ma poi non chiaramente a livello televisivo non si può dire però eh giustamente sono hanno hanno assolutamente fanno assolutamente un lavoro che è poco più che un volontariato e quindi giustamente vanno premiati anche loro e intanto vediamo che eh il pallone viene ricatturato dall'estremo difensore del Gambarogno stavolta decide un rilancio lungo colpo di testa di Bulletti ancora vediamo un bellissimo tacco ancora grande pressing da parte del eh Gambarogno e vediamo che si riprenderà con una rimessa laterale del capitano la numero diciannove Grossi Scilla ancora scambio per la numero ottantotto eh Daldos Sabin ancora cross al centro e vediamo che per poco non ci arriva la numero nove cresteva Elisabetta e vediamo che si riprende con una rimessa dal fondo per l'estremo difensore Moscon Serai ancora vediamo manovra del Kloten che riparte dal basso ancora una benissima verticalizzazione per il Kloten ancora diamo un passaggio che viene intercettato dalla difesa del Gambarogno con la numero dieci eh Kurumi eh Vanessa ancora palla e rivediamo che si libera ancora conclusione pericolosissima per il Kloten con la numero quattordici su Ternina ai 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 ma c'è veramente tanto da lavorare sì speriamo che di uscire se non in parità almeno sull'1-0 solo nella pausa e di entrare in campo con più voglia di questa veramente grande eh tanto vediamo che viene eh fischiata un'infrazione al Kloten ma eh ancora veramente io devo essere sincero il Kloten sta facendo veramente un ottimo gioco a io diciamo che il Gambarogno insomma eh negli spogliatoi ma sono certo che il nostro coach eh Franzioli saprà assolutamente sistemare un po' le carte in tavola perché effettivamente la formazione in maglia blu sta un po' soffrendo eh il possesso da parte e soprattutto il pressing eh e gli affondi eh sulla fascia da parte del Kloten e abbiamo visto adesso un'altra ribattuta da parte della formazione in maglia verde vediamo che è scoccato il quarantacinquesimo e a questo punto io penso che vedremo un paio di minuti di recupero comunque facendo bene un po' tutti i conti ancora diamo una rimessa da parte del portiere corta ancora recuperato dalla difesa del eh Gambarogno ancora diamo eh palla a centro campo per le ragazze in maglia blu con Kurumi ancora decide di scaricare per il difensore centrale la numero diciannove Grossi Scilla ancora palla al Gambarogno avanza con la numero 20 Ostini Arianna ancora vediamo palla che viene no viene riguadagnata da parte del Kloten grande la chiusura ancora un po' di traffico a centro campo vediamo decide di ripartire dal basso ancora il Kloten vediamo una ribattuta un ancora un pallo e ripallo ancora recupera il Gambarogno vediamo un passaggio a centro campo per Bulletti ancora lancio lungo e palla intercettata dalla difesa del Kloten io facendo un po' i conti tecnicamente siamo nell'ultimo minuto di recupero vedremo un po' il direttore di gara cosa deciderà ma secondo me più o meno ci siamo questo tempo è esaurito ancora un rinvio da parte dell'estremo difensore del Kloten ancora palla riguadagnata dalla numero 15 del Kloten Urcai Fabienne ancora vediamo che rallenta e vediamo che riprenderemo il Kloten riprenderà ancora con una rimessa laterale ancora palla messa a terra ancora decide di rigiocare e vediamo che recupera no non recupera vediamo palla spazzata dalla dal Kloten con Chapuis Siria ancora vediamo una possibilità di affondo rinvia molto facile l'estremo difensore Colombo Lucrezia e vediamo che la numero 8 del Kloten Demariak Melisa non riesce a controllare il pallone vedremo se ci sarà questa ultima possibilità di pareggio in questo primo tempo per il Gambarogno non c'è ancora respinta da parte della numero 88 dal DOS Sabine e vediamo che viene commesso invece un intervento falloso da parte del Kloten e vediamo adesso una punizione che verrà battuto da Londino Giada ancora respinta da parte del Kloten ancora benissimo passaggio filtrante che però viene intercettato dalla difesa intanto vediamo il direttore di gara che ha guardato l'orologio io penso che farà finire questa azione poi per l'amor di Dio direi che il questo tempo si è esaurito già tre minuti di recupero ancora possesso palla da parte del Gambarogno ancora un passaggio filtrante per Bulletti diamo che si gira ancora palla spazzata e finalmente arriva il doppio fischio che ci porta all'intervallo con il punteggio di FC Kloten 1 Gambarogno 0 ben ritrovati amici telespettatori di Legnano Web TV di calcio.com per il secondo tempo della partita del campionato di prima lega nazionale femminile di calcio organizzato dalla ASF Associazione Svizzera di Football tra AS Gambarogno ed FC Kloten un bentornato da Axel Paderni ricordiamo che il punteggio è di 1 a 0 ahimè per il Kloten con rete prima rete segnata nel primo tempo da dal Kloten da parte di Ber Sonia e vediamo che si riprende con un possesso da parte del Kloten ancora vediamo una chiusura da parte del Gambarogno ancora vediamo che è salita un po un po di nebbia qui al insomma un po di umidità non dico che sembra quasi la partita che abbiamo commentato di ok su ghiaccio del chiasso dell'altro giorno però insomma un po di un po di Foschia c'è intanto vediamo un'altra palla spazzata dal Kloten dalla parte della numero 4 Vok Valeria ancora vediamo una respinta da parte del Kloten palla ripala ancora e vediamo che ahimè viene commesso un fallo di mano da parte della numero 20 Ostini Arianna e intanto è venuto qui a farmi visita e a farmi un po di compagnia anche il direttore generale dell'AS Gambarogno che assolutamente io ringrazio per la bellissima ospitalità grazie a voi che siete venuti a guardare la nostra partita veramente ci fa piacere vi dico essenzialmente che non stiamo attraversando un buon primo tempo eh comunque mi sembra adesso sono entrati con un altro vigore un'altra un'altra forza di volontà sicuramente ne spogliato il nostro bravo allenatore sarà stato in grado di dirgli quello che si bisogna dire beh assolutamente una comunque tutto sommato state lo scorso anno comunque eravate prima della sospensione eravate in vetta non proprio in vetta però buon eravamo in metà classifica diciamo così no no erai un filo sopra questo ne sono convinto almeno eravate un quinti tra tutto sì questo anche vero comunque quest'anno siamo ripartiti veramente bene però veramente tante volte quando ma certe partite non partono col piede giusto dopo si fa fatica e questo qui veramente il Cloten è veramente una squadra tosta lo sta dimostrando sul campo e fino adesso meritano il vantaggio beh ricordiamo che il Cloten è anche militare in Lega Nazionale A per tanti anni anzi io ricordo ricordo una partita che vabbè lì ero andato come spettatore ma parlo veramente di tanti anni fa tra il allora era ancora Rapid Lugano femminile e il Cloten al Cornaredo ricordo veramente una squadra che vabbè chiaramente magari avranno avuto altre vicissitudini però mi ricordo veramente una squadra che comunque esprimeva veramente un grande calcio un calcio molto spettatore comunque un calcio molto una difesa veramente molto dura insomma infatti mi sembra infatti era mi era sembrato molto particolare perché insomma non mi aspettavo da una formazione così femminile così tanta aggressività difensiva e vediamo che insomma diciamo che magari questa è una formazione diversa perché ci sono tante ragazze che insomma sono poco più che 20 anni ma la filosofia è rimasta quella sì bisogna dire una verità che negli ultimi anni il calcio femminile progredito granché tanto veramente e questo grazie al movimento giovanile che si sta sviluppando specialmente nel settore del nostro del Gambaronio dove veramente con le ragazze si cerca veramente di lavorare bene e probabilmente ad agio ad agio sicuramente i risultati arrivano. Beh assolutamente ma parlando chiaramente voi siete posso dire allora chiaramente lo dico non tanto a livello di risultati ma a livello numerico siete comunque la prima società femminile del Ticino. Sì possiamo dire questo ma noi non è che vogliamo essere la prima squadra nel Ticino vogliamo lavorare questi giovani vogliamo dare la possibilità a tutte queste brave ragazze di poter giocare al calcio che è un gran sport e salutare. Beh assolutamente diciamo che attualmente in Ticino ci sono tre grandi realtà chiaramente che poi geograficamente anzi io saluto anche Donini del chiaramente del Balerna che ammetto che in questi anni ha fatto letteralmente dei miracoli ma comunque appunto Balerna il Lugano adesso Lugano femminile che invece è stato preso è stato incorporato dentro il Lugano calcio e questo assolutamente io credo che sia una manna e sia assolutamente anche perché chiaramente danno anche molta tranquillità e soprattutto danno anche tanta qualità tecnica chiaramente alle ragazze che dimostrano assolutamente che una grande società che investe nel femminile comunque fa un ottimo investimento. Sì veramente Lugano praticamente ha dovuto diciamo in verità ha dovuto andare con la serie A del Lugano calcio per poi far sì di avere una buona continuità perché anche loro purtroppo hanno avuto anche i loro piccoli problemi che praticamente adesso cercano di portarli avanti cioè risolvermi ancora. Beh comunque assolutamente io direi un calcio femminile che è cresciuto tanto in Ticino sia da un punto di vista qualitativo però chiaramente anche quantitativo e chiaramente il lavoro negli ultimi anni nei settori giovanili ma anche il settore giovanile comunque voi che siete ricordiamo che siete presenti da tanti anni nei settori giovanili fate veramente un grande lavoro io penso che assolutamente questo è il risultato di tutto questo lavoro. Sì quello che stiamo ottenendo ora è il risultato di diversi anni e ad agio ad agio cerchiamo di portarlo avanti logicamente che non è sempre facile perché reclutare ragazze e come hai detto te bene prima probabilmente le squadre femminili in Ticino sono diverse ce ne sono tre o quattro in Luganese, Lugano in primis, Lugano in seconda c'è l'Arzo, c'è il Balena anche il Balena è anche nel nostro gruppo. Sì beh io diciamo che ho voluto nominare le tre più grosse però ce ne sono anche altre ovviamente. Sì è vero e poi bisogna dire anche che ad agio ad agio ci sono anche delle società che dietro le quinte lavorano queste piccole un po' con la scuola a calcio, un po' con le stelle chiamavano così e anche noi abbiamo queste ragazzine che sicuramente un domani potranno... E intanto ancora una parata! Veramente un miracolo che poteva essere, lasciatelo dire, poteva essere la seconda rete per il Cloten grande miracolo da parte di Colombo Lucrezia, perdonami se ti ho tolto la parola ma insomma ci vuole anche questo Aia veramente che brutta errore difensivo da parte del Gambarogno, veramente insomma diciamo che dopo un iniziale buona partenza insomma diciamo che stanno un po' faticando le ragazze di coach Franzioli indubbiamente il Cloten sta facendo le sue, comunque io posso anche dirlo che anche la federazione ticinese sta investendo tanto nel femminile ma poi soprattutto io penso che la scelta anche di molte società di far giocare fino agli allievi A anche le donne con gli uomini insomma a un certo punto è una buona scelta Ma quello di arrivare fino agli allievi A no perché praticamente si fermano prima Allora sono rimasto io indietro, perdonami Sì, praticamente adesso arrivano nella categoria C anzi e poi praticamente ad agio ad agio chi ha la volontà, chi ha le capacità si spostano verso le squadre femminili che possono essere Lugana, Luganese, Nambarogno e via dicendo Comunque si fermano e vengono create queste squadre femminili Beh assolutamente io adesso mi auguro assolutamente un grande futuro per il movimento femminile perché io l'ho detto apertamente nel primo tempo e lo voglio confermare anche a te che chiaramente insomma sei il factotum di questa società che insomma se diciamo la persona dietro le quinte che se non ci fosse parliamoci chiaro si potrebbe stare tutti a casa Intanto vediamo un altro affondo da parte del Kloten con la capitana la numero 17 Bacher Nadine Intanto abbiamo visto un grande muro comunque veramente ripeto grazie anche al lavoro tuo e al lavoro anche di molti dirigenti effettivamente questi risultati non sarebbero arrivati però quello che poi giustamente anche c'è da dire che soprattutto in Svizzera interna cioè effettivamente sul femminile si sta credendo veramente tanto Questo è vero comunque bisogna sempre dire che il bacino della Svizzera interna è nettamente superiore al nostro ma noi negli ultimi anni stiamo lavorando bene ad agio ad agio logicamente non si può prendere dalla sera al mattino di avere la creme nel calcio femminile comunque veramente stiamo lavorando bene e siamo contenti e quello dimostra anche l'impegno delle ragazze Assolutamente ricordiamo che poi giustamente anche in Serie A Insomma diciamo che c'è un po' ancora una disparità soprattutto se parlo un po' di stipendi, salari c'è una disparità ancora netta che anzi ci auguriamo assolutamente anche per una questione di parità di diritti che vengono assolutamente equiparati ma perché chiaramente anche le donne meritano assolutamente di essere professioniste e dimostrano che a un certo punto i risultati che portano assolutamente non hanno niente da che invidiare a quelli maschili Ah sì sicuramente è questo logicamente come nel nostro caso qui in Gambarogno, in Ticino specialmente non si può parlare di ragazze che vengono pagate Ma nemmeno nel Lugano se vogliamo dire No no, nemmeno nel Lugano però logicamente che se andiamo oltre andiamo magari in Serie A specialmente in Serie A ci sono delle squadre che praticamente hanno maggiore delle professioniste e queste logicamente che devono essere retribuite E beh un po', diciamo che io lo scorso anno ho avuto intanto grazie per farmi compagnia perché veramente mi fa molto piacere e ti dicevo io ho avuto l'anno scorso l'onore di commentare la partita tra il Balerna e il Servette effettivamente la differenza non era eccessivamente abissale però si vedeva già solo come erano entrate come si erano presentate con che attrezzature che organizzazione chiaramente e che preparazione fisica, atletica e tattica effettivamente avevano le giocatrici del Servette che invece insomma loro erano professioniste Eh sì è vero quello che hai detto a te è giusto quadra bene cioè noi praticamente in Ticino professioniste non possiamo avere giustamente anche però la società interna veramente ci sono delle ragazze che dimostrano veramente oltre oltre ad una grande qualità dimostrano anche uno spirito di gruppo che magari tante volte noi in Ticino non riusciamo ad avere però logicamente che noi come le nostre ragazze qui nel Gambarogno sono ragazze che fanno tre elementi alla settimana lunedì, il martedì scusate martedì, mercoledì, il venerdì e poi la sabato sera stanno qui a giocare e praticamente vivono cioè chiamano così dello sport vivono veramente con la gran passione del calcio Beh diciamo che questo vuole essere un po' un appello io mi auguro veramente che questo gap ma anche proprio per una questione di diritti perché a un certo punto abbiamo tutti i pari diritti e assolutamente il Ticino si merita di avere una squadra professionistica e assolutamente ripeto società come le vostre come le vostre assolutamente sono quel punto di transito e quella scuola di formazione che assolutamente è molto importante Sì, questo è vero cioè praticamente però logicamente che noi non potremo mai avere una squadra chiamiamola così di ragazze non diciamo non è bella la parola pagate o professioniste praticamente noi vivremo sempre nel nostro ambito che è il nostro ambito e praticamente le ragazze farle divertire logicamente che tutti i sabati e tutte le domeniche anche noi cerchiamo sempre che le ragazze vanno in giro per vincere però praticamente l'importante è che si divertono abbiano un comportamento corretto e portano in alto il nostro nome della società Beh assolutamente io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata veramente una appunto veramente un grande impegno e un grande comportamento e questo non possiamo indipendentemente che vincano o perdano veramente si stanno comportando molto bene e diciamo che stanno un po' assolutamente salendo ancora una conclusione da parte della numero 9 del Gambarogno che segna si gira cresteva Elisabetta grande il pareggio da parte del Gambarogno veramente un veramente una veramente una grande una grandissima ripresa un grande una grande una grande voglia di rivincita e assolutamente grande Gambarogno che pareggia 1 a 0 dai la partita inizia adesso adesso è veramente inizia la vera partita è quello che sicuramente il nostro allenatore chiede ha chiesto alle ragazze ma vedo anche lo spirito al secondo tempo totalmente differente comunque veramente adesso ecco è un momento che bisogna crederci è assolutamente devono crederci le nostre ragazze veramente complimenti alla numero 9 cresteva che si è letteralmente girata e ha fatto veramente una grande botta da fuori area veramente nel set assolutamente grande conclusione però la gara è ancora lunga qui al centro sportivo di Magadino assolutamente ricordiamo sono appena passati è passato poco più di un quarto d'ora qui del secondo tempo ancora 30 minuti ancora una partita lunghissima intanto sentiamo anche tutto il pubblico che nonostante tutte le limitazioni è presente qui al centro sportivo di Gambarogno che stanno incitando le ragazze assolutamente grande passione calcistica veramente fantastico ancora un altro a fondo da parte della numero 10 ancora che controlla grande botta e no palo veramente cosa ha fatto la numero 10 Kurumi Vanessa mamma mia veramente che azione spettacolare lasciamelo dire sì veramente adesso mi sembra che le ragazze come si dice in dialetto è ingranata veramente adesso sicuramente vogliono portare a buon fine questa vittoria mamma mia amici spettatori che cosa non si è cosa non ha fatto incredibilmente cosa non ha sbagliato quasi a porta vuota comunque veramente azione fantastica per il Gambalogno che veramente sta dimostrando veramente grande voglia ancora recupera palla la formazione di casa ancora una ripresa di Calalesina Elisa ancora vediamo però un recupero da parte del capitano del Cloten Bacher Nadine un grande a fondo della numero 17 e vediamo e vediamo ancora un possesso da parte del Cloten però veramente e qui lo dico però Gambalogno che sta soffrendo molto sulle fasce in questa gara e dall'inizio della partita che praticamente stiamo soffrendo sulle fasce in quanto le due laterali chiamano così in attacco sono veramente brave toste la capitano qui a sinistra e l'altra dalla parte destra veramente sono due brave attaccanti e assolutamente poi non nascondo la preparazione fisica veramente del Cloten molto impressionante allora bisogna dire una cosa che noi fisicamente ci siamo comunque quando andiamo o le squadre avversarie tedesche tedesche che vengono da noi veramente anche hanno tante volte anche un gap migliore del nostro ma non vuol dire che noi siamo deboli però fisicamente tante volte e poi bisogna anche dire una cosa che noi se guardiamo conto vediamo la parata dell'estremo difensore stavi dicendo stavo dicendo che se guardiamo l'età delle nostre ragazze sono tutti ragazzi 18, 20 anni, 22 anni cioè sono due o tre questa sera in campo che hanno 27, 28 anni tutte le altre sono giovani 20 anni, 21 anni, 18 anni sì indubbiamente comunque adesso a parte tutto grande preparazione e questo assolutamente c'è da darne merito a voi come società e poi al tecnico Franzioli veramente che faccio i complimenti assolutamente per tutto il lavoro che sta svolgendo perché insomma diciamo che allenare le donne è molto differente da allenare gli uomini bisogna avere una psicologia ben differente chiaramente non è molto facile a volte farsi volere bene ed entrare chiaramente negli schemi ma una volta che ti sei fatto volere bene soprattutto le donne hanno capito che comunque sei un tecnico competente ti ascoltano assolutamente questo puoi confermarlo sì questo qui lo confermo pienamente in quanto con il nostro allenatore Franzioli e con il suo allenatore Andy Biancardi che praticamente sono due persone squisite ma quando veramente devono essere ci sono le ragazze ne risentono e lo stanno dimostrando nel secondo tempo oggi Andy Biancardi che parlavo quella partita famosa Rapid Lugano femminile contro Kloten che avevo visto al Cornaredo era lui l'allenatore del Rapid Lugano femminile penso proprio di sì lui è sempre stato un grande allenatore e adesso da quest'anno ha varcato il ceneri e qui veramente a darci una mano e che mano che ci sta dando beh insomma io posso dirlo anzi non so se l'ho visto ma lo andrò se è qui lo vado a salutare perché assolutamente lo ricordo veramente come un grandissimo allenatore del Rapid Lugano femminile un grandissimo allenatore che ha fatto assolutamente sempre molto bene e molta esperienza e veramente assolutamente hai detto insomma non è che hai detto una persona che insomma diciamo che è anche stato un pioniere nel calcio femminile ticinese è vero e il calcio lo conosce specialmente il calcio femminile e quando parla sa di cosa parla e le ragazze lo percepiscono ancora vediamo una ribattuta da parte della difesa del Gambarogno ancora vediamo l'affondo da parte della numero della numero nove cresteva Elisabetta ancora vediamo possesso si è alzata un po' la nebbia ammesso che con sta nebbia non vedo neanche tanto bene i numeri è vero c'è la nebbiolina del piano di Magadino che ci ha fatto visita comunque le giocatrici possono vedersi ancora tranquillamente speriamo che questa nebbia ci porta anche fortuna vabbè giustamente anche noi l'altra sera andavamo a commentare l'ok diciamo che anche a Chiasso c'era forse una nebbia che era anche peggiore di questa vabbè scherzi a parte vediamo ancora un rimpallo da parte della difesa del Kloten ancora ancora vediamo una rimessa laterale che verrà battuta dalla numero 4 Caladesina Elisa ancora vediamo che carica il tiro vediamo che recupera la palla la numero 10 Kurumi Vanessa respinta da parte della numero 10 del Kloten Krebs Jessica ancora diciamo che non si intendono le due giocatrici del Gambarogno vediamo che si riparte con una rimessa laterale da parte del Kloten con Vok Valeria ancora vediamo che ancora bene messa a terra la numero dalla numero 15 del Kloten Urcai Fabienne che diciamo che a centrocampo a livello difensivo comunque sta facendo molto bene comunque sta dando anche un po' di spinta chiaramente nel gioco ancora vediamo una punizione da parte del Gambarogno ancora possesso da parte della formazione in maglia blu viene messa a terra e giustamente il direttore di gara il signor Caracus che finalmente abbiamo scoperto durante l'intervallo il suo il suo nome perché purtroppo è arrivato in ritardo io pensavo di trovarmelo il nome sulla distinta e non me lo sono trovato però a parte tutto sta facendo assolutamente io direi una buona condizione arbitrale comunque anche gli arbitri che parliamoci chiaro sono poco più che volontari comunque fanno comunque un buon lavoro il signor Caracus tutto sommato con questa nebbiolina senza assistenti insomma sta facendo il suo sì l'arbitro di questa sera sta dimostrando anche il valore del nostro arbitraggio a livello cantonale e malgrado che ci sia una nebbiolina comunque veramente è presente lo vedo molto molto bene veramente sempre molto sul pallone intanto vediamo una respinta vediamo una rimessa dal fondo scusate dal laterale da parte di Lucchini ancora un po' di traffico rispinta dalla difesa del Gambarogno e vediamo che purtroppo perde il pallone e si riprenderà con un possesso del Cloten quando sono passati 25 minuti di questo di questo secondo tempo qui al centro sportivo di Magadino punteggio di 1 a 1 partita direi apertissima è vero è una partita apertissima comunque sono due squadre veramente che stanno dando un grande valore al calcio femmini cinesi come abbiamo già discusso prima e veramente sono veramente contento di assistere a queste partite corrette prima di tutto corretto no no questo assolutamente io devo essere sincero un grande fair play e lo dico qui uomini che guardate se per caso siete incollati al teleschermo assolutamente guardate questa partita potete vedere assolutamente intanto un grande colpo di testa da parte dell'attaccante del Cloten la numero 16 Bodeman Sabrina direi assolutamente potete imparare che insomma c'è tanta tecnica c'è tanta voglia e c'è tanto spettacolo assolutamente ha la faccia di chi dice che il calcio femminile non è spettacolare ripeto per me a volte è più spettacolare di certe partite del calcio maschile sì hai detto veramente la verità praticamente tante volte preferisco andare a vedere il calcio femminile che tante volte vedere il calcio maschile in quanto praticamente tante volte si continua a reclamare per tutto per questo ma veramente le ragazze stanno dimostrando un grande impegno ancora vediamo una fonda per la numero 10 vediamo la respinta da parte del Cloten ancora palla che viene spazzata dalla numero 13 del Cloten Ber Sonia assolutamente comunque faccio se devi dire una tua sulla numero 13 del Cloten veramente una giocatrice secondo me di categoria nettamente superiore veramente una grande visione veramente un grande assist che poteva essere pericoloso l'attrice veramente secondo me è una delle migliori ragazze del Cloten attualmente e sicuramente magari arriva già anche da qualche categoria superiore anche per quello che magari sta dimostrando il suo valore ancora vediamo una palla spazzata e direi che si riprende con il possesso da parte del Cloten lancio lungo ancora colpo di testa palla con una conclusione da parte del numero 25 Busciati Leo Trim veramente conclusione molto pericolosa quando stiamo arrivando quasi alla mezz'ora 27esimo del secondo tempo ancora 1 a 1 punteggio qui a Magadino ancora vediamo che recupera la numero 88 Daldos Sabin e veramente ancora vediamo che la palla è ancora per il Cloten ancora un possesso vediamo per ancora un 1 contro 1 ancora Daldos veramente lasciatevelo dire sta fino ad ora se la numero 13 del Cloten è la migliore giocatrice della partita però la numero 88 Daldos lasciatemelo dire è sempre su ogni pallone della difesa e insomma è un asse assolutamente portante e sarai insomma penso che sarai d'accordo con me sì Sabin Daldos veramente sta disputando un campionato egregio malgrado tante volte si infortuna ma ha un grande coraggio una grande volontà ed è sempre presente sia agli allenamenti che in partite stasera lo sta dimostrando veramente ricordiamo Sabin Daldos giocatrice classe 1990 comunque io direi insomma una buona assolutamente una giocatrice di 30 anni direi che assolutamente di ottima esperienza e insomma anzi veramente sta facendo sta tenendo in piedi la difesa del Gambarogno intanto vediamo ancora un cambio adesso vedremo vediamo nelle file del del Kloten non riesco a capire da così lontano ammetto che con questa nebbiolina non riesco a vedere bene chi è il cambio magari il nostro Ferran insomma vediamo che entra scattante vediamo che mette il difensore centrale non riesco non riesco no un attaccante vediamo che non riesco vediamo se adesso si avvicina qua riuscirò a vederla ancora la numero ecco perdonati adesso la vedo la numero 7 Gietz Daner Sara ancora vediamo un 1-2 con la nuova entrata recupera la difesa del Gambarogno un belissimo a fondo da parte del Gambarogno con la numero 14 numero 14 che è Golai Emi ne è entrata nel secondo tempo e finalmente Gambarogno che torna in zona offensiva e ancora vediamo una rimessa da parte di Calalesina Elisa ancora perdiamo un recupero ancora del palla spazzata da parte del Clote ancora possesso da parte del Gambarogno posizione regolare per la numero 9 Crestava vediamo ancora al centro decide di anche non è possibile che cosa si è sbagliata mamma mia cosa non ha svirgolato la numero 20 Ostini Arianna mamma mia due occasioni letteralmente a porta vuota no non è lo Stini ma la numero 10 perdonami con questa nebbiolina non è non è facile ti concedo l'errore comunque la numero 10 e la numero 14 sono due ragazze veramente giovani che escono dal settore giovanile del Gambarogno femminile appunto la numero 10 Kurumi Vanessa veramente cosa si è sbagliata amici veramente lasciatevelo dire Gambarogno che a quest'ora poteva insomma essere in vantaggio 3 a 1 invece lasciatevelo dire due gol veramente sbagliati a porta vuota ma insomma se sbagliano i professionisti figuriamoci queste ragazze che però ripeto fanno veramente un grande sforzo e assolutamente vanno premiate con una comunque con una grande vicinanza ancora vediamo una rimessa per il Gambarogno interviene il Kloten ancora possesso vediamo il passaggio filtrante in aria veramente pericolosa arriva Colombo veramente ancora una conclusione da parte del Kloten con la numero 14 su Ternina veramente sono dispiaciutissimo però sinceramente no adesso a parte tutto veramente ottima azione da parte del Kloten che ha sfruttato questa disattenzione difensiva delle ragazze si portano in vantaggio meritatamente veramente e qui lo dico se mi ascolteranno bravissime si veramente sono brave ragazze veramente veloci come ho detto già prima davanti ma tutto tutta la squadra è veramente un'ottima squadra e sta dimostrando sul capo veramente a questo punto una partita di nuovo tutta in salita veramente incredibile questo è il calcio 30 secondi prima sbagli il gol del 2-1 a tuo favore 30 secondi il ribaltamento completo e invece purtroppo vai a subire il gol e chiaramente vai un po' a vanificare tutto quello che è stato il lavoro anche ben costruito però questo è il calcio 2-1 qui al centro sportivo di Magadino Retti ricordiamo del Cloten nel primo tempo da parte di Ber Sonia e rete nel secondo tempo da parte di Suter Nina veramente un mentre per chiaramente Gambarogno a questo punto ha una rete di differenza chiaramente non sarà facilissimo contro una squadra così recuperare però io sono convinto che le nostre ragazze ticinesi ce la metteranno tutte e vada come vada comunque avranno giocato una partita che io personalmente mi rivedrò con molto piacere perché insomma vedere delle ragazze che giocano con questa grinta e soprattutto con questa voglia di fare bene assolutamente è una cosa che premia ancora vediamo possesso palla da parte del Gambarogno con la numero 4 Caladesina Elisa ancora possesso sbaglia incredibilmente recupero del Kloten veramente se non ci lasciatelo dire se non ci arrivava Grossi era veramente molto pericolosa ancora palla all'estremo difensore del Kloten che spazza ancora colpo di testa da parte dell'attaccante del Gambarogno palla che va fuori diciamo insomma siamo al 33esimo di questo primo tempo scusa secondo tempo insomma cosa ci dobbiamo aspettare ci dobbiamo aspettare lo speriamo veramente un forse in finale dei nostri ragazzi per fare in modo almeno di portarsi a casa un pareggio che non sarebbe immeritato comunque ci troviamo davanti una squadra veramente veramente tosta e ben messo in campo beh hai detto bene secondo me il punteggio il punteggio migliore in questa partita è un pareggio lo dico chiaramente perché a parte tutto il Cloten sta facendo veramente una grandissima prestazione e però veramente anche le ragazze appunto del Gambarogno non stanno assolutamente demeritando intanto abbiamo visto un passaggio che però non va a nessuno da parte della numero 14 Golai Emi vediamo che si riprende con possesso da parte del Cloten con l'estremo difensore Moscon Serai Seraina ancora vediamo un lancio colpo di testa vediamo un rimpallo ancora per la difesa del Cloten per veramente recuperata dal capitano Bacher Nadin veramente che lasciatelo dire sta tenendo proprio il centrocampo del Cloten ancora un passaggio filtrante per il Cloten ancora grandissima uscita da parte di Colombo ma lasciatelo dire veramente grande a fondo è pericoloso di Glace Danner Sara veramente questa poteva essere molto pericolosa e far molto male sì oltre a far male il nostro portiere che lo vedeva acciaccato ma vedo che si rialza è la nazione veramente che ci portava a fare male magari poteva anche essere il gol decisivo per loro comunque abbiamo ancora circa 10 minuti sicuramente riusciremo a portarlo a casa ancora vediamo una ribattuta una respinta da parte della difesa del Cloten con la numero 10 Krebs Jessica vediamo una rimessa laterale da parte di Vok Valeria ancora palla in che va veramente a cercare la numero 13 Bersonia vediamo adesso non credo che sarà un calcio d'angolo sarà ancora una rimessa laterale effettivamente sì siamo però siamo abbastanza punto vediamo una rimessa laterale che va a trovare la numero 14 Sutter Nina ancora vediamo la respinta da parte del Gambarogno con la numero 14 Golai Emi ricordiamo entrata nel giovanissima entrata 2004 addirittura sì è veramente una giovanissima come ho detto già in precedenza due o tre ragazze che abbiamo stasera in campo sono ragazze che provengono dal settore giovanile e veramente si stanno da fare bravi ragazzi veramente una punto una ricordiamo Golai Emi è entrata nel secondo tempo di questa gara veramente sta facendo molto bene assolutamente giovanissima e gli auguriamo assolutamente il meglio perché questo secondo tempo ha dimostrato grande grinta grande tecnica e tanta visione di gioco assolutamente bravissima ancora vediamo una bellissima respinta da parte della difesa del Kloten con Demiriac Melizza ancora vediamo una rimessa laterale da parte del Gambarogno quando siamo già al trentottesimo di questo secondo tempo assolutamente l'orologio sta scorrendo e direi che ci stiamo un po' ancora mancano sette minuti a questo quarantacinquesimo secondo me almeno ancora un paio io credo che il direttore di gara il signor aspetta che mi vado a riguardare il nome perché non non lo trovo più il signor Caracus veramente poi gli farò anche i complimenti a fine gara almeno credo che assegnerà almeno un paio di minuti di recupero vediamo il bellissimo giro palla e la respinta da parte della difesa del Gambarogno vediamo che c'è la possibilità su un affondo sulla fascia ancora la numero nove Cresteva vediamo ancora però la palla che viene respinta dalla difesa del Kloten ancora vediamo un passaggio filtrante ribattuto dalla numero quattro Canalesina Elisa ancora palla per Voc Valeri aspetta un attimo viene segnalato ahimè l'infortunio da parte del portiere speriamo assolutamente nulla di grave comunque Gambarogno che diciamo che nonostante lo svantaggio ha ancora la possibilità assolutamente di recuperare e comunque a parte tutto sta conducendo un'ottima partita assolutamente grande voglia grande grinta da parte delle ragazze del coach Franzioli sì è vero la volontà non è mai mancata in qualsiasi partita anche in precedenza praticamente hanno sempre dimostrato una grande volontà pur di portare a casa un risultato utile e rendere felici i propri allenatori bene aspettiamo un secondo che vediamo l'intervento dei sanitari speriamo speriamo assolutamente nulla di grave per comunque per l'estremo difensore del Cloten Moscon Seraina assolutamente per lui per lei comunque una buona prestazione io poi non so se in panchina non penso di aver visto che abbiano un secondo un secondo portiere il Cloten non mi sembra comunque non voglio portare male comunque mi rinchierebbe veramente se perderemo il portiere in quanto fa parte anche lui di un 11 di squadra veramente una squadra completa e molto corretta e disciplinata no beh indubbiamente questo ce lo ce lo auguriamo ovvio insomma giocare un campionato comunque nazionale io adesso poi giustamente non lo so perché parliamoci chiaro in questo momento che stiamo vivendo se una ragazza ha il più che minimo sintomi è meglio che se ne stia assolutamente a casa quindi sai effettivamente l'ho visto per un altro sport che l'ho che è su ghiaccio effettivamente l'altra sera ne ho commentato una gara partita che è rimasta ferma quasi un quarto d'ora perché purtroppo l'unico estremo difensore si è fatto male anche seriamente ed effettivamente la squadra era rimasta senza e insomma poi chiaramente io ho chiesto ma come mai non c'era un altro portiere e guarda aveva una leggera linea di febbre chiaramente ha preferito stare a casa per precauzione beh insomma non è una cosa divertente e chiaramente insomma poi soprattutto tra i non professionisti bisogna insomma bisogna bisogna assolutamente a volte sperare e bisogna insomma far necessità a vertù vabbè dopo questa disamina vediamo anche un po' che la nebbia si è un po' alzata sì è vero praticamente adesso si fa fatica veramente a vedere anche le giocatrici e si vedono ben bene le linee del campo però le giocatrici si vedono raramente comunque tanto vediamo l'affondo da parte del Cloten e aia veramente che palla che poteva fare veramente male alle ragazze del Gambarogno veramente un grande affondo sempre della numero 13 del Cloten Bersonia che io senza offesa ma penso che concorderai con me perché sei un grande appassionato indubbiamente di calcio che la numero 13 per me fino ad ora è la migliore giocatrice della partita sì concordo con te la numero 13 sta dimostrando è sempre dimostrato veramente una grande calciatrice un grande impegno è sempre lei che ci crea le maggiori difficoltà nella nostra retrovia ancora vediamo possesso per il Cloten quando ci stiamo avvicinando al 45esimo a questo punto io credo almeno in 3-4 minuti di recupero perché giustamente si deve recuperare dall'infortunio ancora vediamo palla in area ancora pericolosissima ancora respinta da parte della difesa del Gambarogno con la numero 19 Grossi Scilla ancora vediamo l'affondo da parte del Gambarogno spalla spazzata da parte della difesa del Cloten ancora vediamo possesso vediamo un passaggio filtrante c'è ancora possibilità grandissima giocata fermata dalla numero 24 Alves Maschita Vanessa ancora vediamo un rimpallo ancora possesso da parte del Cloten ancora palla spazzata vediamo che ci arriva di testa la difesa del Gambarogno ancora possesso per la numero 14 Golai Emi ancora veramente grande qui veramente io posso dirlo scusate chapeau veramente per Bersonia che lasciatemi dire ha fatto veramente un grandissimo numero e scusa concorderai con me veramente è fantastico vedere una giocatrice con una tecnica individuale veramente di questa di questa portata sì è vero sul campo stasera vediamo anche delle giocatrici veramente tecnicamente brave e in grande impegno da ambo le parti assolutamente ancora vediamo la manovra del Gambarogno ancora con la numero la numero 9 Crestava ancora vediamo possesso per grossi vediamo che spazza e non riesce a trovare Golai ancora si riparte con l'estremo difensore Moscon vediamo che decide di prendere con le mani e ripartire ancora con un rinvio 45esimo adesso vedremo se il direttore di gara alzerà il braccio per assegnare i minuti di recupero vediamo che non aggancia la numero 10 Krebs vediamo che però riesce ad agganciare la numero 14 del Clotten ancora una conclusione dalla tre quarti di Calalesina Elisa intanto vediamo un altro cambio per il Gambarogno esce la numero 20 Ostini Arianna aiutami anche tu perché le conosci più non tanto dal numero ma diviso almeno potrei aiutarmi a capire chi è ritorna in campo la Boletti che nel primo tempo ha giocato da punta esce lo stignore Arianna che purtroppo mi sembra che ha già un piccolo problema comunque giocando centrale veramente allora scusami ma sono assolutamente lo dico apertamente ignorante per questa categoria perché ammetto che da categoria a categoria cambia molto ma mi sembra di capire che i cambi siano liberi sì i cambi sono liberi esattamente in prima di se no sono veramente liberi per fortuna e comunque purtroppo quando perdiamo una giocatrice così e vediamo la conclusione del Cloten adesso vedremo un calcio d'angolo che verrà battuto dalla numero 15 Urcai Fabienne beh questa è una cosa bella che ci siano i cambi liberi perché dubbiamente questo ti permette di far girare tutta la squadra ti permette di anche prevenire gli infortuni questo è vero prevenire gli infortuni e poi anche della possibilità a tutte le giocatrici di giocarsi all'ospensione di partito ancora una respinta da parte della difesa del Gambarogno ancora palla vediamo che però viene riguadagnata dal Cloten ancora vediamo che allarga ancora cross basso al centro respinta da parte del Gambarogno ancora il contropiede da parte della numero 14 no non viene concretizzato vediamo che recupera la difesa del Cloten con Krebs ancora per l'estremo difensore Monscon vediamo una palla veramente sto vedendo però un ottimo giro palla non c'è niente da dire c'è solo da fare i complimenti quando si vede una squadra femminile fare chiaramente questo gioco veramente che non possiamo solamente dire che noi non giochiamo bene vediamo che la posizione è regolare per il Gambarogno parata veramente incredibile incredibile veramente grande gol grande veramente la voglia da parte del Gambarogno di pareggiare con la numero 19 grossi in scilla non ci credevo veramente grande pareggio per il Gambarogno veramente grande festa e che soprattutto grande voglia delle ragazze delle nostre ragazze di chiaramente pareggiare e soprattutto far bene non voglio parlare di parte comunque penso che il risultato giusto stasera sia un pareggio in questo momento 2 a 2 perché ambo le squadre hanno dimostrato un grande impegno una grande correttezza calcistica e allora il 2 a 2 ci può contentare no 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 allora io sono assolutamente concordo con te adesso vedremo se ci sarà ancora spazio ma guarda dopo tante gare che tante partite che ho commentato ho visto effettivamente lo dico anch'io il risultato di questa partita per ora che è un ottimo 2 a 2 io direi che assolutamente più che soddisfacente per entrambi perché insomma sarebbe un peccato perché sinceramente il Gambarogno ci ha sempre creduto chiaramente è stata una squadra magari ha peccato un po' io penso di inesperienza questo è quello che penso comunque devo dire la verità che la squadra di Giorgio Franzioli quest'anno veramente sta dimostrando un grande impegno un grande coraggio una grande disciplina e questo anche grazie al Giorgio che veramente sta mettendo dal suo e le ragazze stanno percependo quello che lui vuole vuole impegno fino al 90esimo o anche più veramente adesso stiamo a vedere io adesso facendo un po' quattro conti in teoria siamo al 49esimo quindi penso che ci sarà spazio forse ancora per questa azione ancora vediamo spazzata da parte della difesa del Gambarogno ancora vediamo palla per la numero 14 vediamo la fondo sembra no è chiaramente sì è giusto non c'è poco da dire è fuori gioco infatti era molto dubbio però vedendo chiaramente chiaramente in diagonale sì c'era fuori il gioco ma io credo che ci sarà ancora spazio per forse un paio di passaggi e poi la partita io direi che si è assolutamente esaurita ancora vediamo un rimpallo palla centro campo ancora vediamo sembra un brutto fallo sembra un fallaccio questo è veramente un fallo cattivo è vero che secondo il momento del gioco praticamente può succedere comunque questa era da fischiare comunque bisogna dare a Torato che sta ritrando veramente una partita corretta e lui ci sta mettendo dal suo per portarla a buon termine e vediamo ancora si riprenderà con una rimessa laterale per il Clote ancora respinta da parte della difesa del Gambarogno ancora vediamo possesso per il Cloten vediamo un'altra respinta no io non credo insomma facendo quattro conti siamo a cinque minuti non credo no è incredibile ancora un passaggio e vediamo letteralmente l'estremo difensore del Gambarogno Colombo che salva letteralmente pensavamo che fosse finita adesso questo recupero è un po' estenuante esattamente andiamo alla lunga comunque i minuti di recupero ci possono stare e vediamo no beh protestano ma scusate bisogna essere non bisogna essere di parte il fuorigioco c'è ed è netto quindi non si può assolutamente dire niente e il direttore di gara sta facendo assolutamente molto bene ancora vediamo il possesso da parte del Cloten recupera la palla vediamo un'altra ribattuta ancora per Sonia sul pallone e vediamo e vediamo un altro infortunio però e vediamo c'è un altro infortunio a terra però dai cavolo adesso vengono chiamati i sanitari però insomma facendo quattro conti sta siamo quasi a sei minuti di recupero siamo a sei minuti di recupero assolutamente vediamo i sanitari che vediamo un po' di battibecco un po' di battibecco con il direttore di gara insomma diciamo che non sono cose da non commentare assolutamente vabbè vediamo che ci sarà ancora incredibilmente tempo per un'altra ribattuta per il gamberogno ancora siamo a quasi sette minuti siamo a quasi sette minuti di recupero incredibile veramente una delle partite uno dei recuperi più lunghi che abbia visto ultimamente ancora vediamo la fondo recupera la difesa del gambarogno veramente aspettiamo questo triplice fischio con tanta impazienza ancora un'altra respinta respinta doppia respinta ancora palla a centrocampo per Bulletti vediamo il recupero da parte della del centrocampo del Clotene e grazie e finalmente è finita questa partita con il punteggio di 2 a 2 tra Gambarogno e Clotene io veramente faccio i complimenti a entrambe le squadre e ci vediamo tra poco per le interviste post partita interviste post gara abbiamo visto la bellissima gara qui tra Gambarogno e Clotene terminata 2-2 siamo qua con il capitano del Gambarogno Grossi Scilla beh io direi è assolutamente una grande gara insomma siete state sempre però a rincorrere sì oggi non è stata una gran partita da parte nostra però vabbè penso che alla fine abbiamo perso due punti però per come abbiamo gandagnato il punto ce lo meritiamo anche noi beh comunque di fronte avevate una grande squadra ricordiamo una grande squadra che è stata anche in Lega Nazionale da tanti anni fa io no non direi che non avete non avete giocato bene anzi avete fatto molto bene magari vi è mancato quel pizzico di tra virgolette insomma cattiveria sottoporta perché avete sbagliato due gol che materialmente la partita potrebbe finire 3-1 sì poteva finire 3-1 ma anche 4-1 per loro sinceramente primo tempo ha meritato loro secondo tempo ci siamo svegliati un attimo è partita abbastanza dura con trasti duri alla fine dai 2-2 guadagnato beh obiettivi a questo punto per questo campionato vediamo per quanto va avanti però rimanere alta classifica bene amici telespettatori di Legnano Web TV e di calcio.com vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo nel proseguimento dei programmi di Legnano Web TV alla prossima